salve a tutti e ben ritrovati a questa nuova puntata di scipio net il nostro bollettino sulle ultime novità da scipio net server discord dei creatori di contenuti sul wargame italiani allora andiamo subito a vedere che cosa è successo nell'ultimo mese di da settembre fino ad oggi fino ad oggi che siamo ormai quasi arrivati a metà di ottobre ormai autunno e veramente andiamo ad ampie falcate verso la fine dell'anno ormai perché veramente stiamo andando in avanti abbiamo l'estate alle spalle e quindi ricominciamo pienamente a pieno ritmo tutte quante le attività e appunto ricomincia anche scipio net con anche degli ingressi portati perché abbiamo diversi amici che come vedete si sono uniti a maranto bjork mb 61 ma in particolare io vorrei sfruttare andrea pavan e l'ho salutato qui in chat generale perché il mitico andrea ponch che è molto come ponch arello dei amici sui gruppi facebook poche che ha fondato questo altro server discord che io vi assolutamente vi segnalo che è il server snafu assolutamente molto molto interessante anche quello dedicato ai ai war game e sul canale di andrea veramente trovate tanti già tanti contenuti sui wargame adesso altri ne arriveranno e quindi ha voluto il nostro andrea ponch eccolo qua lo vedete ha già la sua bella categoria poi lelius comincerà a raccogliere i prossimi video ma già io non ho messo intanto una presentazione di inferno una intervista molto bella con enrico acerbi vi segnalo che questo venerdì venerdì 10 11 12 13 14 di 14 14 ottobre sul server snafu troverete sarà fatta una diretta un playthrough proprio di inferno da parte delle strutture di cocerbi inferno la campagna di montaperti guelfi e ghibellini sistema leven campaign che in p500 per la gmt e arriverà speriamo entro la fine dell'anno quindi veramente ci siamo e quindi veramente un benvenuto al nostro caro amico andrea e sono sicuro che veramente i suoi consulti saranno molto 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 apprezzati in chat generale abbiamo anche o anche rimandato un link a queste interviste vi segnalo bella segnalo con andrea angiolino e inutile presentarlo autore studiosi di giochi è veramente colonna portante del gioco storico italiano e irene bagni che è la consulente storica per la ser chester come quindi è un'intervista una live molto molto interessante sui giochi storici che sulle polemiche questi giochi storici vanno a generare e effettivamente se valga la candela se valga la pena ecco per le case editrice case produttrice di punto impegnarsi sul versante del gioco storico sia simulazione che gioco ambientato comunque sia gioco ibrido ed è sul canale di green player che tra l'altro ho scoperto grazie a questa live è un bel canale veramente così io dedicato al gioco tutto tondo però molto molto interessante anche con alcuni contenuti che possono interessare noi appassionati dei gioco di simulazione storico quindi assolutamente come anche faccio qui assolutamente vi consiglio di andare a riprescarvi questa live molto molto bella e però dicevo appunto le attività sono in pieno svolgimento tant'è che questo sabato anzi questo merdi sabato e domenica avremo piana delle urme gioca storia io ci sarò tutti gli altri amici del caso sbelli e in generale gli altri appassionati presenti sarà grande asta del sabato assolutamente immancabile piana delle urme bellissimo il museo storico consiglio che non c'è mai stato e vicino a roma assolutamente da andarci con una marea di reperti sulla seconda guerra mondiale soprattutto appunto provenienti dal dalla zona dello sbarco di anzio ma non solo siamo appunto da queste parti qui e questo raduno di caso sbelli con diversi tavoli ci sarò anch'io assieme a tanti altri amici personalmente porto e mosse il suo sacrifice il ordine di herman latman sulla battaglia di gettysburg bellissimo doppia mappa di di barber veramente un gran gioco molto molto interessante il tavolo però io e andrea magno in particolare però diciamo un tavolo aperto quindi se volete anche venire provarlo c'è problema una divisione un corpo armata non si nega a nessuno e quindi veramente una bella esperienza che assolutamente consiglio e poi la settimana successiva la settimana quella 23 21 22 23 sempre a roma roma game gathering della federazione italiana war game altro appuntamento tra 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 consigliato perché è straconsigliato perché con questo appuntamento noi andremo anche ad avere appunto federazione war game quindi tornei presentazione di nuovi giochi al du ludo ma anche presenza di due grandi autori clem di il rosa domani che chi segue il mio canale sai benissimo conosce benissimo ma soprattutto anche ananda gupta uno dei due autori assieme a jason matthews di twilight struggle assolutamente non c'è bisogno di presentazioni che sarà il presente per parlare anche loro nuovo gioco imperial struggle ma in generale anche appunto di fare strano quindi veramente un anche lì una grande occasione quindi veramente due grandi appuntamenti immancabili nella zona di roma in queste prossime due settimane per il board game ma adesso andiamo a vedere i vari canali ricordate pre salutando nella ponce e a breve anche il suo canale si popolerà ci sono stati alcuni ecco infatti adesso vedete subito il buon effisiste il povero le luce ha dovuto combattere un po con alcuni problemi di youtube che non ha fatto aggiornare un po tutti quanti i video infatti scusatemi non board game empire board game physicist scusate la categoria sbagliata eccolo qua per game physicist scusate salutiamo anche gabby del board di imparare ovviamente perché purtroppo alcuni li ha presi alcuni no ma è un problema di youtube l'ho avuto anch'io anch'io con dei caricamenti che sono alcuni sono andati altri no quindi adesso vediamo un po se riusciamo a recuperarlo comunque sia uno l'aveva preso che era questo qui warfare gli scenari tutorial di warfare modern tactical combat il kickstarter che si è appena chiuso ma credo che ci sarà anche un late play già parte amici di wbs ubs veramente bello poi lo vedrete perché l'ho provato anch'io e diverse volte sono dato anche una piccola mano in fase di play test veramente un gran bel sistema molto divertente e molto bello e che con board game physicist questo video in italiano ci accompagna se mi autori di warfare in alcuni scenari tutorial e poi questo l'ho dovuto mettere io mi spiace lorenzo ma perché appunto ci sono stati questi problemi fare in lake tutorial e le recensioni fare delle con niente in italiano quindi non è facile trovare contenuti sui coin in in italiano poi quindi veramente grazie come sempre al grande lorenzo board game physicist poi andiamo ovviamente classicamente immancabile il genitore nero mauro faina e continuiamo con i suoi tanti video in particolare non c'è il periodo si è dedicato a salerno 43 che non sceglie anche voi perché non mi ha parlato anche qui sul blog l'ultimo arrivato di mark simonich che è un po un introduttivo al suo sistema quindi gioco con non troppi counter mappa più piccola quindi veramente ottimo per avvicinarsi al suo sistema ovvio me fa sempre un po ridire perché il tipo il settimo mi pare della sua serie l'introduttivo come settimo titolo della serie ma comunque quinto sesto sono qualcosa del genere vabbè però comunque sia è un gran bel gioco molto molto interessante e poi speciale continua sempre mauro su guerre guerrieri i pitti ma anche anche altri classici conquest of goal il parlando di coin o simil coin italy 43 45 un speciale un lungo speciale sul sistema poi ritorniamo a parlare di serno 43 quindi con un'analisi molto molto approfondita e appunto questi sono i due giochi che sono stati protagonisti assieme ad un terzo gioco nell'ultimo periodo che è eccolo qua è il gioco di philippe ardi nascino e shizugatake sono due giochi sul sengoku jidai e il sistema di buy fate and fire con la cell fa 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 vabbè è un sistema che non mi ricordo mai il titolo in francese erano sulle guerre di regione francese carino molto bello sistema ad aree non ad impulso ad aree però interessante e l'ha portato e l'ha portato nell'ambito del sengoku jidai delle guerre giapponesi e ma ora appunto ci fa un unboxing e una prima analisi del del sistema poi ancora lo speciale sull'ultimo numero di storie di guerre guerrieri quindi queste sono le novità che troverete sul genitore nero mentre invece il nuovo gamer marco mengoli eccolo qua eccolo qua marco mengoli ritorna ritorna alla grandissima dopo la pausa estiva con due titoli mediterranean empires e uno speciale soldati ortografiche devo ora sono curiosissimo devo ancora sentirlo comunque mediterranean powers ovviamente mauro quanto anche presidente di casus belli sarà presente alla piena delle orme vicino a latina per la prossima settimana per il regno di casus belli ma anche marco e marco appunto porterà tra i vari giochi porta anche questo mediterraneo empires è un gioco molto 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 interessante appunto sulle civiltà del del mediterraneo lo definirei abbastanza un ibrido euro board game per molti versi però ha delle sue particolarità specifiche che assolutamente lo rendono estremamente interessante due puntate non interessate io devo sentire subito questa delle battaglie ortografiche assolutamente poi 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 gli amici di volpe giocosa che ci segnalano questi due queste due speciali su due giochi interessanti no pasaran solitario david topson anche questo abbiamo parlato anche su blog molto molto bello sulla ultimissima fase della guerra di spagna poi in realtà la spagna è tecnicamente già terminata e sono le ultime fasi della resistenza ma siamo già nel 43 44 quindi figuratevi e e sparta strada for greece che non è solo war game non solo vorresti qui c'è stato io ringrazio il peggio cosa matteo perché appunto abbiamo un po parlato su facebook un pochino il titolo è cambiato anche seguito il mio intervento perché appunto il titolo in te pare che fosse ma non è un war game si però ho letto il tuo articolo bellissimo spieghi perché però spieghi perché non è solo un war game cioè non è un war game e basta c'è anche dei pezzi di validazione lui ha detto sai che c'era un dubbio tra i due titoli ma non è un war game e non è non solo war game ho scelto ma non è un war game ma quello che mi ha detto tu sul testo mi ha detto matteo quello che aveva detto tu mi ha fatto capire che forse era meglio utilizzare l'altra opzione quindi l'ha cambiato il titolo non sono pure che fantastico o l'autore lo stesso di europe in turmoil chrisman bird quindi si preannuncia veramente un gran gioco molto molto interessante un kickstarter molto interessante sono due kickstarter sono vabbè non passeranno nel più no non è non che sta dicendo non passeranno e adesso sta uscendo proprio in questi giorni per studio supernova mentre invece sparta straga il for grace è un che infine arriviamo a blog eccoci qui allora a blog e in quest'ultimo mese abbiamo avuto diversi diversi video parlamo di rose normandy ricordo trovate claim il 21 22 23 al roma world game gathering della federazione della war game e il mio qui o mio sistema così il mio mia soluzione neanche un sistema per giocare i rossi domani in solitario ha un suo modulo in solitario molto bello molto interessante però molto elaborato poi sapo un trucchetto così in realtà lo giocate sempre al meglio delle vostre capacità quindi non è un modulo solitario vero e proprio però è molto utile e molto semplice poi un ecco sono stato all'aquila vi ricordate all'aquila l'inizio di settembre purtroppo è stato qualche piccolo problema come semplice tecnico sulla presentazione nessun problema però perché appunto è rifatto anche sia anche come check point charlie quindi anche soltanto in audio il mio intervento valore didattico e formativo soprattutto del war game quindi caratteriale educativo nel senso più ampio del del termine qui troverete tutta la presentazione sia in formato visivo blog che in formato solo audio se vi è più comodo su check point charlie tanto si può seguire tranquillamente ancora parlando di warfare modern tactical eccetera carica al combat eccolo qua questo in inglese un video in inglese però facciamo vedere questo per i miei amici esteri internazionali però come vedete anche per italiani se sapete l'inglese è appunto un uno scenario tipico di del warfare modern tactical combat vi ricordo questo gioco a tanti scenari tante campagne eccetera ma è un sandbox quindi potete creare anche da soli i vostri scenari e poi lo speciale su beneath the mad lo speciale insomma il blog su beneath the mad solitario sui sottomarini della regia marina secondo quale maniere non vi sto a dire altro perché tanto vi rimando al video di greg smith con la collaborazione anche di nicola seggini e poi appunto anche il video in inglese sempre per gli amici internazionali l'elio sono ancora fatta tempo perché l'ho veramente messo da poco c'è qui anche un altro video già velo preannuncio sulla playlist che ho creato la playlist blog per cominciare con tutti quanti i titoli e le puntate su titoli veramente fatti per chi non ha la minima esperienza di work game vuole avvicinarsi vuole muovere i primi passi nel mondo del work game della simulazione storica lì ho già inserito tutti i vecchi video che avevo messo che erano appunto dedicate ai titoli veramente che aprite la scatola e giocate vi danno veramente i principi fondamentali del work game ma poi segnate nella iscrivete quella playlist perché mano a mano che ne farò in futuro li aggiungerò appunto a questa playlist poi lo troverete anche su scipio net ovviamente ripartirà sempre comparirà sempre che youtube la smette di farci i capricci e fare impazzire il povero l'elius veramente e niente questo è diciamo queste sono le le novità appunto abbiamo avuto anche un po di di chat su a su quell'attrezzo particolare il laser lineare per il per la linea di vista molto molto interessante della stromand che fra l'altro ho fatto anche complimenti in chat a baroncini per per i suoi video quindi se c'è una stromand che è molto molto attivo sono trecciate e anche bella segnalo l'intervista l'ho rimandata qua sulla via del grognard di federico di ortolano e si trano cartolano sì c'è stato un problema sui nomi in un'altra lista che comunque sia veramente è un blog che io vi vi consiglio vi consiglio questo la via del la via del grognard è perché un blog fatto da una persona che si sta avvicinando per la prima volta al mondo della simulazione storica che sta facendo un po di intervista un po di personaggi della simulazione storica ed è bello vedere questo percorso sempre questa è fondamentale come sempre l'attenzione per chi sta cominciando questo passatempo questo viaggio in questo mondo fantastico della simulazione storica io vi saluto qui come sempre vi ricordo vi metto in descrizione il link per iscrivervi a scipio net e nessun problema se siete creatori contenuti fate come andrea pavan e appunto iscrivetevi mandatemi una mail un messaggio quello che volete vi scrivo mi faccio la vostra stanza nostra categoria su scipio net dovrete il vostro pazzo rimandi automatici di tutti i contenuti che farete di modo da rimanere in contatto dire con gli altri creatori di contenuti ma anche e soprattutto con il pubblico io vi saluto vi vi auguro buon divertimento nel prossimo mese con tutti quanti questi eventi poi ci rivedremo al prossimo video sicuramente e come sempre vi rimando su scipio net arrivederci su scipio ciao